allora questa è la strada d'accesso si arriva qui in prossimità dello spigolo dove qua ci sono già dei segni di assestamento ma soprattutto qua la scarpata è veramente ripida qua cioè va giù veramente ripida è tutto terreno riportato quindi qua c'è uno spazio abbastanza esigo per passare e il terreno potrebbe effettivamente frenare grazie 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 grazie